Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Le vacanze estive sono ormai terminate anche per Andreas Müller e Veronica Peparini. La coppia di ballerini e coreografi ha trascorso l'estate insieme alle loro due gemelline, Penelope e Ginevra, nate lo scorso marzo dopo una gravidanza difficile. La loro nascita ha portato un ulteriore carico di amore nelle loro vite. Per l'ex ballerino di Amici, diventato papà per la prima volta, questa nuova fase della vita è stata un'esperienza emozionante. In queste ultime settimane, Andreas e Veronica hanno trascorso del tempo ad Anzio, nella casa della famiglia di lui, insieme alle gemelline. Con l'arrivo di settembre, però, è giunto il momento di tornare ai propri impegni professionali. Nell'ultima storia, Andreas ha spiegato ai fan il motivo della loro recente assenza dai social, siamo spariti dai social. Stiamo bene, le bambine stanno. Bene, tutti stanno benissimo, in questi giorni sparirà anche il telefono, partiamo e saremo assenti per lavoro. Con entusiasmo, Andreas ha inoltre aggiunto, settembre è iniziato alla grande, stiamo lavorando su diversi progetti. Ci sentiamo presto. A presto amici, concludendo il messaggio con un cuore rosso. Pare che anche le piccole Penelope e Ginevra accompagneranno mamma e papà nei loro viaggi, con Andreas che continua a dimostrare il suo amore per le gemelline, come ha scritto nell'ultimo post, ormai non se ne può fare più a meno. E voi, cosa ne pensate di papà Andreas? Fatecelo sapere nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.